ok nonna si costa io stai buono tu costa io stai buono ma stiamo facendo a terza puntata della non ha no's best podcast così si chiama non ha no's best e non è una besta no cab no nonna sa tutto nonna sa migliore e dicelo per italiano che per inglese io lo capisco no l'hanno detto in inglese così tutti possono capire ma dobbiamo dobbiamo provare a parlare un po' anche in inglese ogni tanto perché ci sono tante gente che ci guardano che non capiscono la lingua e poi dicono essa povera nonna 50 anni giù canadà non sa manco una parola allora iniziamo con un po di caffè ovviamente dobbiamo prendere il caffè prima di iniziare no dopo mangiato ci vorrei caffè abbiamo fatto una bellissima pranzo grazie a te abbiamo mangiato tutti tutti insieme dammi un po di caffè il caffè servito ok ok ovo o zucchero sì io sì no cucciarino basta ok ok e pure a me ok ok nonna nonna ok so il discorso principale di questo di questa puntata sarà il dialetto ma non solo il dialetto in ma anche come è cambiato il dialetto quando sei immigrata qua in canada so il dialetto è quello sempre calabrese no parli dialetto calabrese quando sei venuta qui in canada non hai mai diciamo parlato l'inglese ogni tanto una parola ok è buono caffè grazie il dialetto calabrese è una volta quando l'ho lasciato io e quando siamo oggi non capisci ci sono niente il dialetto calabrese proprio che lei una volta ma l'hanno miscato come noi abbiamo miscato il canadà il canadà e l'italia il canadese il canadese e l'inglese esatto chi sarà cosa voglia dire io che per esempio la prima volta che sono in che sono andati in quando avevo 12 anni parlavo così e poi tutti i cugini mi hanno detto ma ma tu parli come nonna tu parli come nonno è infatti parlavamo un dialetto molto stretto da quando siete partiti diciamo degli anni 60 70 e in quel tempo in quel periodo che siete partiti il dialetto è cambiato è diventato un po più italiano perché quando c'eramo noi francesco se io ero a scuola era scuola a scuola obbligatoria era fino alla quinta chi ne faceva e chi ne faceva sì esatto e nessuno andava alla scuola specialmente nel sud sono la scuola non ha diciamo cambiato il dialetto perché non c'erano non c'erano tanti diciamo persone che andavano a scuola ma invece ora parlano di un dialetto differente italiana italianizzato come il dialetto diventato più italiano italiano inglese così e questa è la cosa più bella dei migranti specialmente qui in nord america anche in australia quanto si ne ne amo chi si dè due mila e novecento il dialetto non esiste no questo è la dove sbagli perché se noi continuiamo a fare i video così si ricorda quando ne cresciamo a mamma nostra diciamo che prendete un ligno che appicciamo il fuoco ma chi è sicuro diciamo perché il fuoco ne tenono e appicciano o non appicciano perché tenono le calorie ma si parla differente ma si parla differente si parla differente puro dei coschi vario dottore si parla differente ma anche ok so non solo il dialetto abbiamo diciamo messo voi avete messo il dialetto tipo in a jar di quando siete venuti qua e nella mustipata e l'ate stipato così in ari stipi il dialetto che è questa è la cosa più bella che diciamo è un regalo che avete portato ma non solo questo dialetto ma ora che puoi vedere anche in america che il dialetto è cambiato perché loro sono ancora più gli italiani in america si sono arrivati cento anni prima di voi anche duecento la loro lingua è ancora più più antica no più tipo inglese ok perché loro parlano in un dialetto molto molto mischiato con con inglese ma noi qui in canada visto che siamo di primi secondi terzi generazioni invece la like abbiamo ancora questo legamento al dialetto che si sente ancora come si parlava in quei tempi in calabria aspetta scusa allora non solo il dialetto che avete portato qui in canada ma avete fatto una lingua per voi stessi tipo una lingua mischiata con il dialetto l'italiano e inglese certi lo chiamano italiese ma ci sono certe parole che possiamo dire che diciamo ogni giorno che tipo se vai in Italia e dici una di queste parole non ti capiscono tipo ti rirono pure però non ti rirono ma è diverso però devi sapere Francia perché il dialetto nostro lo parliamo bello chiaro ma il dialetto se parla come noi parliamo anche l'inglese diciamo carabigio e non si dice carabigio diciamo o già quello che si dice già quello o dici mamma del lusso queste sono parole in italo canadese che tutti devono imparare o tutti devono sapere e se non vogliono sapere non fa niente vabbè il primo sarebbe il garbiggio chi è il garbiggio? il garbiggio all'italia diciamo io mi chiamiamo un nizza ma abbiamo i condannatori no ma il garbiggio in italiano cos'è? in italiano si dice la spazzatura ma perchè il garbiggio? perchè noi ne l'abbiamo inventato perchè qua si chiama garbiggio avete aggiunto un u alla fine e abbiamo messo il garbiggio abbiamo fatto la lingua del nostro la seconda sarebbe il floro chi è il floro? il pavimento il floro perchè il floro il floro e noi diciamo il pavimento ma non mi ricordi la parola come dicevamo dici usa il floro in una sentence ah hai lavato il floro ok il carro il carro la macchina io mi prendiamo il carro immagina se vai e succede capita che certe gente vanno in Italia e chiedono per il carro ma poi ti guardano come ma cos'è il carro? il carro è il carro la macchina sì ma in Italia è il carro di voi sì ok perché l'icomo l'icomo è una dopo l'icomo che dicono ma noi diciamo l'icomo 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 chi è Ustoro? Ustoro è un negozio, ma noi diciamo Ustoro perché non è più facile da dire. Ustoro, noi stiamo a chiedere Ustoro. Ok, ora avete fatto la loro lingua e noi nipoti e figli abbiamo iniziato a parlare così perché è diventato così. Ma ci sono anche, diciamo, le strade di Toronto. Ok, io vorrei sentire come tu pronunci queste strade principali di Toronto. Ok, anche le città di Ontario. Ok, io ti do le strade e poi tu mi dici indietro. Ok, Kiel and Lawrence. Kiel and Lawrence. Dufferin and Eglinton. Dufferin and Eglinton. Dundas. Dupont. Dupont. Davenport. Davenport. Woodbridge. Woodbridge. Ok. Ora sa ciò di. Ad di qua modulo. Bluer. 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 Blure. Bluri. Young. Young. What's another street? Wilson. Wilson. Kiel and Wilson. Kiel and Wilson. Ok. E per chi non capisciamo? Per chi? Quando siamo venuti qua tutte queste cose noi ne diciamo a modo nostro, Francia. A modo nostro. Adesso queste sono le parole in dialetto che tutti devono imparare, ok? Mi scialo. Mi scialo. Mi scialo proprio. Mi scialo. Ma che vuol dire mi scialo? Mi scialo vuol dire contenta. Ok. Mi stai scialando. Mi stai scialando. Vuol dire che mi stai divertendo. Mi stai pigliendo. Ah no, come diciamo, mi diciamo. Mi scialo. Mi scialo vuol dire contenta. Poi quando vai d'estate in Italia vai a Romari. Cosa dici quando la gente vanno a fare il bagno? Cosa dici? Diamo pigliamo il bagno. Diamo pigliamo il bagno. Upigliamo. Perché upigliamo? Rasca a cacerea. Perché quando ti arraggiava la cacerea diciamo. Grattami un po' come diciamo. Ma noi diciamo. Rasca, rasca, rasca. Ok. Quando la nonna nostra ne mandava a prendere un bagno. Dice. Io ti prendi il bagno per un fuoco. Ma non si dice chi usa parole. Su altre parole. Ok. Summati. Summati perché è tardo. Summato. Signo summato. Sarebbe. Mi sono alzato. Tardo. Wow. Ok. Molto diciamo giusto. Alzati diciamo. Alzati diciamo. Alzati. Come se scattaruso. Scattaruso. Che vuol dire? Perché fai i capricci. Scattaruso che è tipo. Io ti dico una cosa e tu mi stai sentendo. Furbo. La speccia è furbo. Incazzato. Incazzato quando tu te non mi sono così. Sì. Io te parlo e tu mi rispondi. Perché sei incazzato? Un mincaricare. Un dinne garicare. Francia è un dinne garicare che passa oggi e ben addomani. Ok. Ti minio. Ti minio. Ti minio. Ti minio se dici a una volta. Mi dico che ti minio vi. Sono parole che dobbiamo mantenere perché sono belle e diciamo che in Italia non si usa troppo il dialetto perché ovviamente si parla l'italiano. Più o meno si usa il dialetto a casa, con i genitori, con gli amici, no? Ma noi visto che parliamo questo dialetto, come abbiamo detto prima, che è un po' mischiato con l'inglese e l'italiano, lo parliamo spesso perché è brava per una grande popolazione dei migranti e i suoi nipoti. È l'unico modo di parlare. Secondo me è bellissimo, ma questo è il tempo di andare a imparare la lingua italiana. Perché il dialetto è un dialetto, è una lingua. È una lingua. E chi non sa parlare è buono, è buonissimo. Perché una volta, Francia, noi eravamo i miei contadini, avevamo le vacche, avevamo le pecore e dicevamo Alzi, ti chiedi a mangiare la vacca. Ma chi è nata e a questa vacca che ha mangiare la vacca? Sai che potete mangiare? È un parlato del passato che è collegato con i contadini e con il lavoro che facevano i contadini. Ovviamente qua non ci sono i contadini che fanno così la mucca, la vacca. Ma non ci sono l'Italia, non ci sono l'Italia, qualcuno che ti ha... Vabbè, secondo me, se io avrò i figli nel futuro, loro imparano non solo il dialetto, ma anche l'italiano. Devono sapere tutti e due, perché il dialetto non è, come hai detto tu, il calabrese non è un dialetto, è una lingua. Dobbiamo imparare questa lingua perché secondo me è bello, fa parte della storia e fa parte... e dobbiamo conoscere il dialetto per conoscere meglio i nostri radici, specialmente in Italia, specialmente la gente che non sono in Italia. C'è solo gente che non può parlare, che pure si vergognano. Però la parra, quando tiene la lingua, qualsiasi parola che dici è buona. o ha detto il dialetto tuo, o ha detto basta che tu parli bello, tranquillo, un lato è imbrogliare la lingua. Ah, quando cominciamo a imbrogliare, è mezzo canadese, è mezzo... Ma è successo qua però, vabbè, allora nonna, dimmi un dito che ti diceva tua mamma, tua nonna in Calabrese. Un altro francese, aiuta a avere storia, come dicevamo noi, a avere storia, a avere un negozio, a essere aiuta a fare la spesa, povera, e poi lì a formaggio. E non lo sapeva dire, e diceva pecorino, parmigiano, cotonese, friulano, mozzarella. E chi lo diceva? Girava a capo, non capisciva. Ha detto a chi mi avessero acciso quando siamo venuti all'America. Ah, pronto, è acciso! Quando siamo venuti qua tutti quanti, io mi abitavo in affitto, perché appena venuti nessuno aveva una casa. E sotto ci stavano i padroni, e sopra ci stavano le persone in affitto. Allora era venuta una signora con un marito, e stavano in affitto. Allora questa signora vede a lavare. L'uso era che ogni otto giorni lavava tu, ogni otto giorni lavava kid. Ed è uscisa a lavare, poveri due padroni, l'ha guardata una bella signora, ha detto I love you, ha detto già. Yeah, why you love? Oh, ha detto, you don't understand. Yeah, ha detto, I love you, and pustento. That was good, I liked that one. Ok nonna, abbiamo fatto la terza puntata del podcast, c'è qualche cosa che vuoi dire alla gente che ascoltano, che guardano. Io voglio dire, le parole che io faccio per Calabrese dico ma voi che nessuno che sapete non vi mai scordate, perché chi sta qua è un onore che parliamo Calabrese, non Calabrese solo, da qualsiasi parte che veniamo dalla patria nostra, perché da nessuno nato non potremmo mai cancellare. Brava, beautiful. Ok, ciao a tutti e... Ciao a tutti e buon sabato. Oggi è sabato, sì. Oggi è 17 febbraio, una bella giornata con un bel sole per l'Italia. Ok, ciao. Ciao.